Vai Giovanni! Vai Cavallo! I nostri azzurri si sono fatti valere a Dustin Ad Labem, città della Repubblica Ceca, capoluogo del distretto e della regione omonimi, dove si è svolto, lo scorso fine settimana, il campionato europeo di show dance latin. Giovanni Cavallo e Maldivia Polini hanno portato l'Italia in una meritatissima finale, chiudendo con una fantastica quinta posizione. Unica coppia italiana, quella modicana, a difendere il tricolore nella finale. Giovanni e Maldivia hanno chiuso così la stagione internazionale nel migliore dei modi, dimostrando ancora una volta il loro valore. Questa finale per noi rappresenta tanto, l'abbiamo vissuta in pieno e ci abbiamo messo il cuore, ha dichiarato soddisfatta Maldivia Polini, dopo l'entusiasmante performance. Più che del risultato, siamo soddisfatti della nostra prestazione, era una rivincita con noi stessi, l'umiltà, il coraggio e la determinazione premiano sempre. Dietro ad ogni risultato c'è sempre tanto allenamento e noi siamo già concentrati ai prossimi appuntamenti in calendario, ha dichiarato invece Giovanni Cavallo, che ha anche ringraziato i tanti sostenitori che hanno tifato per loro. In pista hanno portato la coreografia con il tema pop art, trasformandosi così in dei fumetti con un look impeccabile e attraverso artisticità e danze latino-americane hanno raccontato tre storie diverse, da innamorati a ladri di banche fino ad un litigio dal parrucchiere. Una prestazione premiata non solo dal risultato, ma anche dal pubblico presente che ha molto apprezzato gli atleti italiani. Tanti messaggi sui social per i due ragazzi che sono anche i direttori tecnici della Move Dance di Modica, dove sognano di vedere crescere futuri campioni di questo sport.